buongiorno a tutti ragazzi benvenuti anche oggi al vostro oracolo angelico giornaliero le carte stanno già scappando e la prima eccola qui vi ricordo che se volete informazioni sulle sessioni private o sui corsi potete o guardare sul nostro sito internet oppure inviare una email e vi ricordo soprattutto che questo è periodo di promozione quindi se siete interessati ai video corsi per imparare a leggere i tarocchi questo è sicuramente il momento migliore per approfittarne perché la promozione stavolta è veramente importante quindi ragazzi praticamente potrete apprendere potrete prendere un corso e averne un altro in regalo cioè più di questo non so veramente che cosa fare ma andiamo avanti iniziamo ecco la terza carta che è uscita fuori eccole qui abbiamo una papessa un due di coppe e la stella rovesciata chi è che spia chi ragazzi chi è che spia chi chi sta spiando chi cosa quando perché perché questa queste sono carte che parlano beh c'è il due di coppe quindi è ovvio che parlano di emozioni parlano di sentimenti parlano di qualcuno che parlano di sentimenti reciproci cioè parlano di qualcosa che non è a senso unico ma è a doppio senso di marcia quindi è un sentimento che io mando a te che tu mandi a me è un qualcosa di reciproco qualcosa nell'aria però appunto è nell'aria qua c'è la papessa cominciamo con la papessa perché la papessa è il fulcro di tutto è la prima carta allora quando si fanno gli abbinamenti giusto a proposito di video corsi richiamo i miei studenti all'appello soprattutto quelli che già hanno il secondo livello quello o quelli che lo stanno acquistando in questi giorni la papessa come avete visto nella lezione o nelle lezioni degli abbinamenti essendo la prima carta va considerata il cosa cosa accade la seconda carta quando si fa un abbinamento fra queste due va considerata il come questo è il metodo che nel metodo mai appunto psico evolutivo questo è il metodo che ho creato per non dover imparare gli abbinamenti a memoria ma semplicemente capirli di volta in volta la terza carta abbiamo una stella rovesciata quindi se aggiungiamo a queste due la terza carta queste due carte diventano il cosa e questa diventa il come e adesso andremo a vedere online in estemporanea un esempio di abbinamento se la papessa è qualcuno che osserva e studia ma non parla non dice e non agisce e quindi ecco il che cosa ecco che cosa accade oggi oggi accade che c'è l'energia della papessa oggi accade che stiamo guardando da lontano stiamo studiando da lontano una persona in particolare perché è ovvio che si tratta di una persona nel due di coppe ci sono due persone quindi una siamo noi e l'altra è un'altra persona nel tre di coppe invece per esempio ci sono più persone coinvolte questo è un altro modo per interpretare le carte di coppe ecco che se la papessa ecco lei che osserva da lontano che guarda sui social network che studia la situazione che sta osservando facebook instagram tutti i vari social network ma non parla oppure magari è una moglie che controlla nelle tasche del marito o nel portafogli o nel cellulare oppure un marito che controlla nelle tasche o nel cellulare della moglie che cosa riguarda questo controllare e questo studiare senza parlare e senza agire riguarda la relazione di coppia o se non è una relazione di coppia è comunque una relazione con qualcuno o è qualcuno che sta osservando da lontano la relazione fra due persone quindi è lo spione che studia due persone che osserva da lontano due persone magari un genitore che spia la relazione del figlio della figlia oppure una moglie che spia la relazione clandestina del marito o viceversa il marito che spia la relazione della moglie oppure qualcuno che ha una relazione con una persona impegnata e cerca di capire che cosa sta accadendo nella relazione oppure ancora in alternativa magari questi siamo semplicemente noi che anziché chiamare la persona che amiamo la persona a cui siamo interessati preferiamo piuttosto tenere le distanze e studiare la situazione da lontano osservare questa situazione da lontano ci sono ovviamente varie opzioni però di certo abbinando l'energia della papessa con l'energia del 2 di coppe questo è qualcuno che potrebbe facilmente stalkerizzare o comunque qualcuno che potrebbe osservare senza parlare senza dire la papessa è una persona che sa molto quindi quante cose sappiamo o quante cose sanno su di noi dipende dai punti di vista ovviamente perché può trattarsi di noi o può trattarsi di qualcun altro che lo fa su di noi però ecco quante cose ci sono dentro la mente quante cose di quante cose siamo a conoscenza che non diciamo e che osserviamo di qualcun altro però abbiamo detto che se aggiungiamo la terza carta nel metodo maya per gli abbinamenti queste due carte diventano il cosa e la terza carta diventa il come quindi queste due carte rappresentano l'energia di qualcuno che studia la relazione da lontano ma non agisce non parla e non dice nulla e lo fa in modo molto intelligente in modo molto furbo il come diventa la stella rovesciata e la stella rovesciata purtroppo è qualcuno che ha la sensazione di dover fare tutto da solo è qualcuno che sente di non avere un aiuto dall'esterno sente di la volte anche la stanchezza il peso e la responsabilità di dover fare tutto da solo magari è qualcuno che vorrebbe un po di reciprocità qualcuno che vorrebbe un po di aiuto un po di collaborazione e invece sente il peso di della mancanza di collaborazione o in alternativa c'è un qualcosa che va guarito perché quando la carta della stella è diritta è una carta molto bella perché la carta della stella diritta parla di guarigione parla di ritrovare se stessi il proprio posto nel mondo nell'universo con gli altri o con se stessi quando invece è rovesciata parla di una difficoltà a raggiungere questa guarigione parla di una difficoltà a vivere una un come il dover fare uno sforzo per raggiungere i propri obiettivi come se le cose non fossero facili noi è ovvio vorremmo le cose facili ma non sempre le cose sono così facili non sempre i desideri si realizzano solo perché noi li esprimiamo perché passa la stella cadente noi possiamo esprimere un desiderio molte volte dobbiamo lavorare su un obiettivo per poterlo raggiungere la cosa importante però ragazzi è sempre la stessa dobbiamo tenere presente che quando noi lavoriamo su un obiettivo non deve essere un obiettivo che riguarda il fare un lavoro che dovrebbero fare altri se si tratta di una relazione non si può fare il lavoro da soli ma bisogna essere in due a fare questo lavoro bisogna avere non solo una reciprocità di sentimenti che c'è ma bisogna avere una reciprocità di impegni bisogna dare e ricevere bisogna essere in equilibrio bisogna riuscire a fare le cose insieme perché se davvero si è in due si è in due non solo nelle cose belle piacevoli e facili ma si è in due anche nelle difficoltà quindi ecco che questo è un concetto molto importante da tenere presente nella giornata di oggi o nei giorni attorno ad oggi dato che questo è un oracolo angelico e può manifestarsi sia nella giornata di oggi sia anche nei giorni circostanti nei giorni attorno a questo e adesso vediamo qual è la carta angelica che ci parla appunto delle energie di oggi e che ci dà magari un consiglio su come canalizzare al meglio questa energia prendiamo una carta il mondo che bella carta questa è l'arcangelo michele è l'arcangelo michele che ci dice che stiamo facendo un ottimo lavoro e meno male fa bene sentirselo dire ci vuole un po di incoraggiamento soprattutto quando abbiamo la sensazione di dover fare tutto da soli è una carta che ci parla di gioia di soddisfazione e di gratitudine ricordandoci sempre che la gratitudine è l'arma migliore che abbiamo sempre perché se siamo gratis gratis no gratis se siamo gratis e inviamo all'universo un senso di gratitudine nei confronti di tutto ciò che già abbiamo ecco che l'universo è automaticamente portato a darci ciò che desideriamo quindi come insegnano legge d'attrazione oponopono e tante varie altre filosofie spirituali esoteriche occulte siate sempre grati di ciò che avete e se desiderate qualcosa provate a sentire come vi sentireste se già aveste quel qualcosa questa è una delle chiavi della vera magia non la magia del dei rituali con le candele che non funzionano la magia vera quella fatta da voi con il cuore quella che ha l'energia maggiore di tutte la gratitudine è un elemento essenziale il vero mago lo sa ecco questa è anche una carta che parla di compimento questa è una carta che parla di un lavoro che in effetti abbiamo fatto e del quale possiamo già vedere qualche risultato un lavoro che ci ha portati a crescere ci ha portati a migliorare una parte di noi ci ha portati a diventare persone migliori perché nel bene e nel male tutto ci insegna qualcosa e tutto ci conduce lungo il sentiero dell'illuminazione della crescita personale dunque ragazzi per oggi abbiamo finito vi ricordo di andare a guardare il nostro sito internet o di inviare una mail per tutte le informazioni oppure ci vediamo domani